E effettivamente andare poi a fare la preparazione senza aver completato la rosa può essere una difficoltà, perché noi che lavoriamo sul campo la viviamo così. E visto che c'è un periodo da quando finisce il campionato a quando poi inizia il mercato, che è vuoto, perché non sfruttarlo subito? Secondo me sono d'accordo.